Bella azione tutta di prima che porta Luis Alberto davanti al portiere Rete! Il gol di Luis Alberto! La Lazio è in vantaggio! Tutta di prima l'azione a centrocampo tra Luis Alberto e Vesino, 1-2 Vesino ha restituito il pallone a Luis Alberto che si è involato verso il portiere Bigliov e lo ha battuto con un destro che non ha lasciato scampo all'estremo difensore olandese Lazio 1, Feyenoord 0, Luis Alberto ha scambiato con Vesino, ottimo il passaggio di ritorno di Vesino per Luis Alberto che si è presentato a 2x2 col portiere, palle in rete, Lazio in vantaggio Quindi attenzione immobile che apre il gioco sulla destra per Felipe Anderson, veloce controbede la Lazio, Felipe punta l'avversario, entra in regola e se la porta sul sinistro, calcia! E' il gol di Felipe Anderson! La Lazio raddoppia! Felipe Anderson col mancino! Segna il gol del 2-0 sfruttando l'assist di Immobile, superando Hartman con una finta e poi la conclusione che non ha trovato la miglior risposta da parte del portiere Bigliov che si è fatto beffare dal mancino di Felipe Anderson che è stato molto bravo a saltare l'avversario, a portarsi il pollone sul sinistro e poi la sua conclusione Attacco intanto con Zaccagni in area di gore da sinistra, tiro cross, la parata e poi il gol di Vesino! Che ribadisce in rete la corta respinta di Bigliov! 3-0, Vesino qualche istante fa aveva sfiorato il gol, lo trova adesso andando a ribadire in rete la corta respinta dell'estremo difensore del Feyenoord Ancora una discesa di Zaccagni sulla sinistra, si è involato, ha saltato l'avversario, tiro cross sul quale il portiere ha smanacciato, è arrivato Vesino come un falco a mettere il pallone nel sacco per il gol del 3-0 Lazio 3, Feyenoord 0, partita chiusa dopo 28 minuti di gioco Luiz Alberto, il tocco in avanti per Vesino, il gol di Vesino! La doppietta di Vesino! Sull'assist in profondità si presenta ancora una volta al 2x2 col portiere e con il destro non lascia scampo all'estremo difensore del Feyenoord Doppietta di Vesino! L'uruguayano che decide ancora una volta le sorti dell'incontro Due gol e un assist per lui, la palla in profondità di Luiz Alberto Vesino Ha tu per tu col portiere, aggancia e col destro, non lascia scampo a Bilov Lazio 4, Feyenoord 0, ancora lui, Mattias Vesino La palla in profondità di Luiz Alberto Vesino